e brotti follower e bentorni sul mio canale sono tifo su rossano che vi parla oggi siamo qui a 14 febbraio san valentino auguro a tutti e vigila di foggia palermo subito a veloce un video molto molto breve vigila di palermo e di foggia palermo probabili formazioni anche se non giustissime al solito qui metterò la cosa in porta per noi paragotti dovrebbe essere sempre 4 2 3 1 a destra a carda a sinistra o per rotto crivello la cina marconi e mercoledante marconi centrale accendendo un po de rose e e damiani anche se detto che o già edre comunque avendo 10 minuti si calda per una maia di tolare lo valente lo periferisce alle spalle di brunoni però quello che ci trascina doppiatta anche contro la come sempre molto importante poi se gironne e ha detto che il primo giallo sono lui il primo faro è troppo e il giocatore comunque l'ha creato più di quello che era il secondo non è non era giusto secondo lui giallo comunque c'è stata da miri che se l'ha messo per gli arbitri perché palermo da sempre molta disponibilità ma gli arbitri lo usano per comunque modo per mettere in scena la propria carriera e quindi comunque per prendersi la scena lui dice che il turnover e baldino si dice che il turnover lo fa soltanto quando ha problemi nel senso che quando magari qualche giocatore non sta bene fisicamente per evitare di rischiarlo ma se in caso è non ci sarà turnover felicevo ai giocatori molto importanti comunque troveranno il loro spazio e appunto per quel punto di direzione sinistra o per rotto privello dice che già l'ed è abbastanza chiare ma e ovviamente non l'ha spoilerato e oggi era dall'oglio c'era il mio metto potrebbe si titolare dall'oglio invece ma non probabilmente però comunque potrebbe ottenere spazio perché comunque è molto apprezzato dallo stesso baldini quindi che di ragazzo per questo vi è piaciuto se vi è piaciuto un commento mi piace iscriviti al canale mi raccomando guardate video mi raccomando iscriviti al canale che è molto importante nel quale facciamo un prossimo video bella follower